Vi invitiamo a fare amicizia con l'ultimo rampollo di casa Little. Un attimo d'attenzione. Louis Stewart. Salve. Come state? Ma siete tutti matti. Quello è un topo. L'hanno introdotto nel loro mondo. Ecco, adesso conosci tutti. Salvo. Fiocco di neve, lascialo subito. Sputalo fuori. Non si mangiano i membri della famiglia. L'hanno accolto nella loro casa. Puoi passare la salsa? Al massimo ti può passare le pulce. È entrato a far parte della famiglia. Un topo con un gatto come animale domestico. Io non sono il tuo gatto. Ti accarezzo il pancino? E se te lo facessi accarezzare da dentro? Aiuto! Ma a volte trovare una casa... Sti or... È più facile... Sto bene, mamma. Sto bene. ...che sentirsi a casa. Mi manca qualcosa. C'è come un vuoto dentro di me. Vorrei sapere da dove vengo. Quaggiù! Cerchiamo Stuart. Siamo i suoi genitori. Non può venire con voi ormai. Fa parte della famiglia. C'è qualcosa che non potrete mai dargli. Perché siete degli umani senza appesa. Columbia Pictures presenta... Una storia per chi non riesce mai a sentirsi all'altezza. Non sono sicuro di volere un fratello. E un amico no? Un amico può sempre servire. A trovare la propria strada. Stanotte gli facciamo pelo e contropelo. Tu sei Stuart. No, no, ma te lo vado a cercare. A camminare a testa alta. Eh, ti ricordi di me? Sono Stuart Little. Sono Stuart Little. Dal coregista di Il Re Leone. Forza, Stuart! Quest'anno. Nei pacchi più piccoli. I regali più grandi. Il momento più bello della mia vita. Mi sento alto 30 centimetri. Adesso vomito una palla di pezzi. Stuart Little. Un topolino in gamba. Io e te siamo partiti con la zampa sbagliata. Che ne dici? Facciamo amicizia? Ma sbaciucchiami le chiappe.